Ciao a tutti, oggi vi mostrerò un passo di breakdance chiamato Knee Drop, letteralmente caduta del ginocchio. Si parte da un parallelo, portiamo la sinistra dietro e poi la poggiamo dietro il ginocchio destro, quindi da qua, dietro, poggio. Qui il ginocchio destro si piega fino a toccare il pavimento e ci rialziamo attraverso lo spirale. Guardate sempre di poggiare subito il piede appena scende. Fondamentale in questo passo è che dopo che il sinistro tocca il destro, la gamba destra, non si muove più, ovvero il piede non scivola per scendere a terra, ma rimane fermato. È solamente il ginocchio destro che accetta il pavimento per poi risalire. All'inizio aiutatevi con le mani, spingendo tranquillamente il pavimento e poi salire in spirale. in questo passo fondamentale l'imbalzo. Quando scendo giù non sto per terra, ma utilizzo l'imbalzo per rinferire subito. Il movimento deve essere leggero e fluido. Pamp, forma. Quando potrete una certa differenza col passo potete provare a togliere le mani tranquillamente. Quindi pavimento, dietro, scendo e risalto di seduto. Spero di non essere dimenticata nulla, di essere stata pronta chiara, per cose di cosa. Sapete dove scrivermi. Io vi saluto.